Davide Dell'Innocenti, direttore commerciale del gruppo Dell'Innocenti, siamo qui a Maison L'Azir, cosa portate e qual è la vostra forza? Noi siamo un gruppo che a Maison L'Azir ha deciso di portare anche quest'anno quello che da sempre facciamo bene, e cioè Dell'Innocenti Lamiere nell'ambito di tutto quello che è il mondo metalli, lattonerie, facciate, coperture e poi una forte rappresentazione di tutto ciò che è invece il mondo riscaldamento, con il nostro progetto che ormai è conosciuto in tutta la valle, che è Casa del Fuoco, dove selezioniamo i migliori marchi e dove portiamo sostanzialmente un po' tutte le ultime novità del mercato, sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista di rendimento, qualità, certificazioni. Siete qui a Maison L'Azir, quindi proponete una idea di casa tutta vostra, qual è la vostra idea di casa? Allora sicuramente la nostra idea di casa è una idea che spinge sul concetto di qualità, quindi durabilità. È un po' sempre stato il fiore all'occhiello delle scelte dei miei genitori, scegliere non per quanto riguarda solo il discorso prezzo o servizio, ma anche per quanto riguarda il mondo, diciamo così, della qualità, quindi della durabilità dei prodotti, il fatto che possano questi non creare nel tempo problemi alla clientela e laddove ci dovessero essere, essere coperti da tutto ciò che è una filiera di qualità. Siamo di fronte a una stufa? Perché è importante? Perché me la fai vedere? Diciamo che definire la stufa è un po' poco, si chiama Induo, è un prodotto di ricca, un prodotto austriaco, vantiamo ormai alla vendita da 7-8 anni, è un prodotto unico nel mercato perché sostanzialmente brucia legna e pellet e in maniera automatica passa da un combustibile all'altro senza alcun tipo di problema. È da sempre un fiore all'occhiello di Casa del Fuoco e di ricca perché non tutti i produttori sono in grado di costruire una macchina con questa tecnologia. Dal punto di vista delle componenti, SIGA è tutta costruita con i migliori prodotti di qualità e dal punto di vista della tecnologia, nel momento in cui avviene una combustione a legna, il cliente può, non dovendo ricaricare per forza la legna, utilizzare il pellet come backup sia in determinati orari che addirittura in fase di accensione. Cioè può sostanzialmente caricare la sera la legna senza farla accendere e al mattino dire alla stufa di partire a un determinato orario. Fino a quando la legna, cambiando il CO all'interno della camera di combustione, passa ad un utilizzo della legna, la stufa finisce di utilizzare il pellet e inizia la combustione a legna. Tutto questo in automatico. Prodotto austriaco di alta qualità, un'azienda che si occupa solo di prodotti a biomassa, con 5 anni di garanzia. Noi crediamo che sia uno dei prodotti che il mercato globale della biomassa offra come qualità. Forse, secondo me, il migliore.